Siamo qui praticamente con il nuovo sindaco di Lanciano, Filippo Paolini, un commento e poi vi lascio... No, che c'è di farlo? Siamo in diretta, sindaco. Sì. Niente, vedete le persone qua intorno, una grande gioia. Un bel percorso che ci ha portato a questo grande risultato, ho parlato pochi minuti fa con Leo Marongio, gli ho fatto i complimenti per il lavoro che ha fatto anche lui, adesso dobbiamo mettersi solo a lavorare, questi festeggiamenti dureranno poco, però è giusto pure che questa grande massa si festeggi, questo momento molto particolare per la nostra città. Dopo dieci anni il Centrodestra Unito ha premiato, le urne vi hanno premiato, soprattutto nelle contrade? Beh sì, il Centrodestra torna dopo tanti anni alla guida della città, chiaramente abbiamo assunto un impegno importantissimo adesso, quindi bisognerà impegnarsi tutti quanti insieme, è un lavoro da fare immediatamente, non si potrà perdere tempo, dobbiamo mantenere tutto quello che abbiamo detto nei nostri programmi, abbiamo quattro anni e mezzo davanti, per cui si inizierà a lavorare subito, al di là della gioia di questo momento.